Il voto degli elettori di Città Sant'Angelo conferma Matteo Perazzetti alla guida del comune pescarese. Mandato bis per l'esponente di centrodestra alla guida della civica Siamo Città Sant'Angelo, che ha ottenuto il 52,5%, lasciandosi alle spalle il tentativo di Ugo Di Silvestre, visione comune al 45,4%, di riconsegnare la cittadina al centrosinistra. Staccato Stefano Seracini con il 2%, in consiglio comunale 11 seggi per la maggioranza e 5 per l'opposizione. Sono felicissimo per come si è svolta e poi soprattutto per come è arrivata. Se la prima volta cinque anni fa è stata una cosa storica, dico che questa volta è stata olimpica la cosa, perché veramente abbiamo scritto una pagina importante della politica angolana, ci siamo scontrati contro un Golia importantissimo, aveva riunito praticamente tutte le forze che avevano governato per 30 anni a Città Sant'Angelo, ex vice sindaci, ex presidente del Consiglio, tanti assessori delle giunte precedenti e anche transfughi dalla maggioranza di cinque anni fa. Nonostante tutto questo grande parterre, dall'altra parte la coerenza di una squadra di 16 persone nuove è riuscita a vincere e ad affermarsi. Città Sant'Angelo gli ha dato il mandato. Da dove riparte? Quali sono le priorità adesso per questo nuovo mandato? Quello che noi avevamo interrotto non meno di due giorni fa, notizia di poche ore fa, nemmeno un'ora fa, il GSE ci ha confermato un fondo da 1.195.000 euro per la ristrutturazione dell'aggianzante, avevamo fatto una richiesta del conto termico, ci sono arrivati oggi, quindi una bellissima notizia che fa partire di nuovo Città Sant'Angelo a sprombattuto.